Benvenuti nella nostra cucina, oggi prepareremo una torta senza farina, senza glutine, 5 ingredienti, buonissima, facilissima, buonissimissima! Partiamo, via! Facciamo un giro nel mio frigorifero, tristissimo, è la cosa più triste che io abbia mai visto e prendiamo yogurt, zero grassi, questo qui bianco naturale, uova, gocce di cioccolato, amido di mais e avevo preso questa barrettina, ma l'ho mangiata tutta, però vabbè, con quello che c'è. 3,60 di yogurt, 3 uova, 60 grammi di zucchero e 53 di amido di mais e amore, mescoliamo, 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 tagliamo un po' di cioccolato e via il nostro impasto, mettiamo tutto nella teglia, in forno per 40 barra 45 minuti, forno ventilato a 180. Wow, ma io non avevo idea che Soffico De Goni forse così brava a cucinare i dolci, tocco finale, questa crema di nocciole sopra e non vediamo l'ora di aggiornarvi con la piccola selene blu che si pappa tutta questa torta col solito video che ci fa sbaccanare dalle risate, granella di cioccolato e la torta è finita, vi lascio così, un bacio, ciao!